Durante un semplice volo di collaudo, l'equipaggio perde il controllo. Il muso sta salendo. Continua a salire. In piena notte... Che ne pensi? Che dobbiamo fare? Non lo so, sta andando giù. Un Airbus scompare mentre sta attraversando l'Atlantico. A un airshow in Francia, un volo dimostrativo si conclude con un disastro. Quando una nuova tecnologia si affaccia in cabina, piloti e aerei possono faticare a comprendersi. Perché l'aereo non risponde ai comandi? Che cosa dobbiamo fare? Sui flap! Sui flap! È un processo diagnostico che spesso non si ha il tempo di fare. Ma che succede? Le indagini portano a una domanda cruciale. È stata colpa del pilota o dell'aereo? Dobbiamo saperlo. Dobbiamo saperlo.